we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi stiamo per andare a prendere il fort bite di oggi uscito pochissimi minuti fa accessibile utilizzando l'emote passo del pollo sulla strada dove c'è il chiosco della bananita ragazzi quindi il chiosco della bananita si trova ovviamente a neo inclinata il passo del pollo sappiamo qual è e allora proviamo a dirigerci e vediamo se riusciamo a recuperarlo ragazzi andiamo di prepotenza come on io adesso non ricordo la posizione esatta ma provo a indovinarla o a meno che non c'è già qualcuno che stia scendendo spero che sia così siamo arrivati a neo inclinata il chiosco della bananita deve essere proprio questo c'è disegnata sopra la banana vediamo se è questo è questo il chiosco della banana dove diamine il chiosco della bagnana della banana della bagnana qualcuno sa dove è il chiosco della banana non è questo mi dicono attenzione è un po' più avanti il chiosco un po' più avanti chiosco banane chiosco banane chiosco banane chiosco banane adesso questo nugget dov'è chiosco banane pili pili se questo è il chiosco banane raga come vedete siamo qua questo è il chiosco delle banane ragazzi e il fort bite è proprio qua dove c'è la strada ragazzi fort bite numero 51 si sta attivando lo andiamo a recuperare ragazzi no lo prendiamo però nooo per un pelo comunque avete capito ragazzi dove si trova il fort bite 51 mi raccomando un bel like per questo video noi ci vediamo poi in live ovviamente prestissimo bella e non parte mai l'outro bisous qui